Signori della Galassia del Nord, ci tenevo a farvi sapere che quel volumetto di cui vi parlavo nello scorso video l'ho acquistato e l'ho letto in un pomeriggio di vita goduta. Ho anche dei contenuti praticamente già pronti che riguardano le informazioni di questo volumetto, ho trovato più di tutto interessante l'intervista di Akutami Giege e di Titekubo. Signori, questa settimana doppio appuntamento con Jujutsu Kaisen perché sabato uscirà anche un video dedicato ai primi episodi della seconda stagione dell'anime. E quindi, salvo uscite di action figure, salvo collaborazioni con Fortnite, ok, Jujutsu Kaisen e Fortnite, va bene, iniziamo questo video dove parleremo dei capitoli 230 e 231. Dopo la pausa di una settimana, il capitolo 230 di Jujutsu Kaisen distrugge le nostre aspettative che ci eravamo fatti sin dal capitolo 229, perché abbiamo passato letteralmente due settimane a ipotizzare come lo scontro tra Gojo e Maoraga sarebbe andato a finire. Sukuna ritira Maoraga nel mondo delle ombre come se fosse un Pokémon, non vuole assolutamente rischiare di perderlo, così lo tiene al coperto e intanto può proseguire la fight con Gojo. In pratica Sukuna ha fatto sì che gli effetti del vuoto incommensurabile siano andati sull'anima di Megumi anziché sulla sua. Come ciò sia stato possibile, onestamente non l'ho ancora capito, ma Sukuna l'ha fatto. Ci sono alcune cose che di questo scontro non riesco a capire, ma vengono fatte semplicemente. Ciò mi porta a pensare che Sukuna potrebbe possedere una tecnica maledetta che ha a che fare con le anime. Questo potrebbe rispondere a molti interrogativi sulle abilità di Sukuna, anche sul fatto che Yuji possa aver assimilato questa tecnica maledetta e che adesso la possa utilizzare a suo vantaggio. Anche su questa cosa che ho appena detto su Megumi, ci sono effettivamente tante cose che potrebbero essere spiegate così. Gojo capisce di non avere altra scelta se non annientare Maoraga prima che si adatti, ma Sukuna se la ride perché sa che Gojo sta raggiungendo il limite. Infatti lo stregone più forte del presente perde nuovamente sangue dal naso, questa volta però la cosa sembra essersi aggravata. Esattamente come avevo pensato negli scorsi capitoli, si sta uccidendo il cervello ad usare troppo il dominio, i danni sono comunque ingenti ed è impossibile coprirli tutti. Quindi Gojo si mostra affaticato, Sukuna lo sbeffeggia e poi chiude il suo dominio dentro ad una barriera in modo da non far scappare l'avversario. Tuttavia il dominio si disintegra perché il cervello di Sukuna ha subito gli effetti del dominio di Gojo e quindi non riesce a mantenerlo attivo. Adesso è Gojo a ridersela. In pratica il capitolo è Sukuna e Gojo che si prendono per il culo a vicenda. Il capitolo 230 termina con Gojo che afferma di non poter perdere perché i suoi studenti lo stanno guardando, dopodiché sferra un cazzotto contro Sukuna dando inizio a quello che sembra essere un secondo round della battaglia. Anche se a me pare più un climax, o meglio spero sia un climax, perché di round ne abbiamo già visti almeno 5 per quanto mi riguarda, ogni volta che un dominio veniva distrutto e ricreato. Allora signori, è il momento di un mio piccolo rant su questo capitolo 230. Prima ho messo un'informazione perché la volevo riprendere in questo momento. Ditemi se ho capito bene, allora Sukuna avrebbe passato gli effetti del vuoto incommensurabile all'anima di Megumi per le 5 volte in cui Gojo l'ha usato. Tramite ciò Sukuna avrebbe permesso a Maoraga di potersi adattare al dominio di Gojo. Però Sukuna è stato comunque colpito dagli effetti del dominio perché poi già nel capitolo 230 mostra di aver subito dei danni al cervello. Non è riuscito a trasferirli tutti? Può essere, anzi mi sembra abbastanza plausibile. Capiamo dal 229 cosa accade a Sukuna quando viene colpito dal vuoto, quindi non ha trasferito quei danni? Ma poi l'anima di Megumi può reggere quegli effetti per più volte? Per me manco per una volta potrebbe reggerli, cioè il vuoto incommensurabile è una roba pazzesca. Nel capitolo 228 Gojo si chiede perché Sukuna non stia usando la tecnica delle 10 ombre, però dal 230 pare che Sukuna la stesse già usando da inizio scontro. Gojo non se ne è accorto, stento a crederci, perché lui possiede i sei occhi nonostante ne abbia due normalmente e quattro quando porta gli occhiali. Che sì, che ridere. Comunque con i sei occhi, come abbiamo visto da poco anche nella seconda stagione dell'anime in questo arco ambientato nel passato di Gojo, Geto eccetera, Gojo era in grado di dedurre quale fosse la tecnica maledetta del ragazzo che si clonava, insomma, quello lì. Mettiamo che Sukuna stesse nascondendo la ruota, l'ha dovuta comunque evocare, quindi avrebbe dovuto usare la tecnica di Megumi comunque. Tra l'altro come possa aver nascosto sta ruota è un mistero. Tralasciando il fatto che sta cazzo di ruota pare scompare come per magia continuamente, Gojo non l'ha notato? La cosa che potrebbe provare a risolvere un pelo la questione, secondo me, è che Sukuna abbia evocato la ruota prima dell'inizio della battaglia e che l'abbia montata, tra molte virgolette, sull'anima di Megumi direttamente. Ma adesso c'era lui la ruota, cioè, se la interscambiano, sono scemo io, non si capisce, è un'incoerenza, sono dell'idea che indipendentemente da tutto non si capisca un emerito cazzo. E qualcuno potrebbe dire, sì ma che cazzo di pensieri ti fai, dai, è magari un espediente di trama per mandare avanti la lotta. È vero, potrebbe essere, però da manga diversi pretendiamo cose diverse. Io da Jujutsu Kaisen, un manga che spiega anche perché, ad esempio, che cazzo ne so, Kyuji ha le dita lunghe 0,3 mm in più degli altri, ecco, io onestamente pretendo anche delle spiegazioni abbastanza accurate, qualcosa che possa comunque risolvere i miei dubbi, i miei possibili dubbi. Innanzitutto c'è un pre-Shibuya e un post-Shibuya. Nel pre-Shibuya le lotte erano un po' più cazzare, magari meno spiegate. Nel post-Shibuya, invece, come possiamo notare, sono veramente spiegate in ogni minimo dettaglio, praticamente. Se togliamo questa cosa, che per me crea molto fascino all'interno di questa serie, che cosa ci rimane in questo arco? Che è stracolmo di combattimenti, praticamente il combattimento è il centro dell'arco narrativo. Quindi è per questo che vado a farmi ste pippe, non per altro. Per me questa cosa non ha senso, quindi magari spiegatemela nei commenti se qualcuno l'ha capita, però dubito perché, secondo me, sta cosa non ha una spiegazione logica. Qualcuno potrebbe dire, magari il 231 avrà più contenuti? No. La settimana dopo, infatti, abbiamo il capitolo 231, dove capiamo, grazie a Kusakabe, che Gojo all'interno dei suoi pugni ci sta infilando il blu. Cito anche il fatto che Akutami abbia rifatto fare un'apparizione a Nanami in un flashback, grazie a Akutami. Il mio personaggio preferito, cioè per forza doveva apparire, cioè prima della fine, per forza. Intanto Gojo sta fisicamente dominando lo scontro, sta praticamente portando Sukuna a spasso. Oh mio dio, Gojo sta usando la moltiplicazione del corpo di Naruto. No, 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 come vi permettete di copiare Naruto? A Akutami con le opere di Togashi ci va a braccetto, quindi semmai si è ispirato a lui. Quella che usa Gojo in questo capitolo è quanto più somigliante ad un'immagine residua anziché a dei cloni ninja. Potete stare tranquilli, veramente, fan di Naruto, potete stare tranquilli. Ci viene poi fatto un pippone sulla capacità di adattamento di Maoraga. Ci viene detto che praticamente la ruota che Sukuna ha sulle spalle effettua dei giri, ogni volta che questo viene colpito da un attacco del proprio nemico. Gojo però nota che la ruota si annerisce quando Sukuna utilizza l'amplificazione del dominio. Andiamo avanti dicendo che la ruota ha bisogno di quattro giri in totale e che ora ne ha compiuto uno, quindi ne restano tre. Gojo vuole chiudere la partita con Sukuna prima che i tre giri siano compiuti. Da Yuji e Hana viene ipotizzato il fatto che Gojo si possa essere dimenticato di Megumi. C'è una gag anche con Kashimo, ma comunque, cioè, ci sta ogni tanto mettere anche queste gag qui. Secondo me non si è dimenticato di Megumi, ma vedremo. Guardate come sta fresco Gojo alla fine del capitolo, guardate Sukuna come sta messo, bello anche lui, vero? Santo cielo, la smettete di curarvi, porca di quella putzia. Avete rotto i coglioni, c'è altri 50 capitoli così vogliano fare. Signori, per darvi un'opinione su questi due capitoli devo dirvi, sono a metà tra non sto ben capendo e ok, ci sta. Non sono capitoli che mi sono strapiaciuti, sono dei capitoli secondo me un po' nella norma, che spostano la battaglia incentrandola attorno alla figura di Maoraga. Forse come fase del combattimento non mi entusiasma molto? Può essere questo. Comunque, lasciatemi dire che sono veramente contento del fatto che su questo canale si stia creando una bella community, per quanto riguarda anche Jujutsu Kaisen. Mi ha fatto molto piacere che nello scorso video c'è stata tantissima partecipazione rispetto al solito, abbiamo quasi fatto il triplo delle visite che faccio di solito, anzi, che cazzo dico, il quintuplo delle visite. Ci sono stati anche tantissimi nuovi iscritti e niente, volevo ringraziare di questo. E niente, cercherò di impegnarmi sempre di più per proseguire al meglio con questa serie. Detto ciò, lascio la parola a voi nei commenti, vi ringrazio per la visione, un saluto, ciao a tutti! Grazie a tutti!